Un pomeriggio da Incubo, vissuto nel raggio di circa 200 km, da Pagani a Barletta, caratterizzato dal seguente ordine cronologico. La prestazione più brutta della stagione, addirittura peggiore delle precedenti, la sconfitta sul campo contro un avversario per nulla irresistibile e infine il disimpegno del presidente Roberto Tatò. Il patron del Barletta, che ha scelto per la seconda partita consecutiva di non assistere alla gara della sua squadra, ha deciso di dire basta. Lo ha fatto attraverso un comunicato ufficiale breve ma significativo. Si è preso tutte le responsabilità dei risultati scadenti, ha chiesto scuse ai tifosi e ha comunicato l'intenzione di voler mantenere fede agli impegni pressi sino al termine di questa stagione. Poi basta. Leggere tra le righe il comunicato o immaginare le reali intenzioni presenti e soprattutto future di Tatò non è semplice. Il suo disimpegno è frutto della delusione del momento per una prima parte di stagione disastrosa che nemmeno i più incaliti pessimisti avrebbero potuto immaginare. Oppure Tatò ha intenzione di chiudere definitivamente un capitolo che gli ha regalato molte più delusioni e amarezze che soddisfazioni? Solo lui sa ovviamente. Una cosa è certa. Tatò è responsabile in minima parte della pochezza dei numeri del Barletta. È responsabile in minima parte il tecnico Nevi Orlandi. Idem i calciatori. Il principale colpevole di questa situazione ha un nome ed un cognome. Gabriele Martino, il direttore generale di Biancorossi, condelega praticamente a tutto mercato compreso. Aveva dichiarato dopo la chiusura della sessione estiva di aver dato precedenza alla qualità anziché alla quantità al momento dell'allestimento della Rosa. I risultati invece dicono il contrario. L'organico è mediocre sia numericamente che per valori tecnici. Gli era stato affidato il compito di direttore generale per consentirgli di far crescere a 360 gradi l'azienda Società Sportiva Barletta Calcio. E invece nel Barletta è cambiato ben poco. Anzi, zero. Il Barletta, l'attuale Barletta, è in buona sostanza la sintesi del suo operato. Quello di ieri ha toccato addirittura il fondo, come ha ammesso in conferenza stampa Nevi Orlandi. L'ingenuità di Macaroni ha permesso alla Paganese di passare in vantaggio dal dischetto dopo dieci minuti con De Sena, poi il raddoppio nella ripresa realizzato da Novotny. Ha dimostrato di essere sulla via della guarigione infine in Lecce, vittorioso 5-2 ad Ascoli, pratica già archiviata nel primo tempo con le doppiette di Bogliassino, intervallata dal gol di Ferrera Pinto, e con il poker di Zigoni. Nella ripressa vanno a segno Vegnaduzzo e Schiavino per i marchigiani e ancora Zigoni per i Salentini, ora a meno 4 dal nono posto.